Ma ciao! Oggi andiamo a vedere tutti i vari tipi di correttori che abbiamo noi in Yves Rocher e vi dico tutte le differenze dei vari correttori per ovviamente scegliere il correttore più giusto a te Allora, intanto vi dico che il correttore è un cosmetico che va a correggere tutte le imperfezioni del viso quindi va a nascondere le occhiaie, le rughe, i brufoli e gli arrossamenti Noi in Yves Rocher abbiamo tre tipi di correttori Abbiamo il correttore stick, il correttore stick pella perfetta che è questo di qui Poi abbiamo i correttori camouflage, quindi camouflage vanno proprio a camuffare tutte le imperfezioni del viso e poi abbiamo i nostri fantastici correttori fluidi che adesso vi faccio vedere che sono questi, che sono una novità proprio di Album 5 che io non ne posso più fare a meno Adesso insieme andiamo a vedere tutte le differenze Allora, andiamo a vedere il correttore stick Questo correttore stick è all'olio di rosa mosqueta Praticamente è un correttore che va steso col pennello numero uno quindi col pennello antiocchiaie e va messo sempre prima del fondotinta A chi consigliare? Per chi va bene questo correttore stick? Per chi magari non ha un contornocchi molto rovinato quindi da rughe, rughette, quindi non ha un contornocchi molto rovinato quindi con problemi perché essendo che è un correttore stick va proprio ad evidenziare tutte le problematiche del contornocchi quindi va proprio ad evidenziare quelle problematiche del contornocchi Allora, come scegliere il colore? È semplice Per quanto riguarda il correttore stick dobbiamo sempre scegliere un colore più chiaro rispetto al fondotinta Ok? Quindi se usiamo, dipende dal colore del fondotinta dobbiamo andare a scegliere il correttore sempre più chiaro Ok? Perché il correttore, vi ricordo, deve essere sempre più chiaro rispetto al fondotinta Allora, adesso andiamo a vedere i nostri correttori fluidi Allora, intanto questi correttori fluidi sono all'acqua di fior d'aliso quindi pensate un po' quanto sono ottimi questi correttori e tra l'altro, essendo all'acqua di fior d'aliso sono anche adatti magari per chi ha un contornocchi molto sensibile quindi per chi ha una pelle sensibile Allora, chi può usare questi correttori fluidi? Chi magari ha un contornocchi molto rovinato quindi con rughe, rughette, occhiaie perché essendo fluido andiamo proprio a stendere il prodotto tranquillamente e ovviamente andiamo a nascondere proprio tutte le imperfezioni Allora, come lo stendiamo? Lo stendiamo col pennello antiocchiaie oppure con l'anulare andiamo proprio a stendere il prodotto però è consigliabile il pennello antiocchiaie numero uno Poi, per quanto riguarda come mettere questi correttori è semplice andiamo a fare un triangolo proprio rovesciato quindi andiamo a fare proprio questo triangolo rovesciato andiamo anche a metterlo anche un po' qui praticamente andiamo a fare questo triangolo e andiamo proprio a stumare il prodotto col pennello antiocchiaie quindi andiamo a stumare per bene Allora, a differenza del correttore e stick praticamente questo si deve mettere sempre prima del fondotinta questo lo possiamo anche utilizzare dopo il fondotinta Allora, vi dico anche un'altra cosina che entrambi i correttori si possono sovrapporre quindi possiamo mettere il correttore stick quindi mettere poi, uniformare il tutto con il fondotinta e poi andiamo a mettere questo correttore dopo il fondotinta per un effetto più wow Allora, poi vi dico un'altra cosina riguardanti questi correttori perché fanno anche da illuminanti quindi un correttore più chiaro fa anche da illuminante perché ci va anche ad illuminare quindi io ho quello più scuro e quello più chiaro che mi va proprio ad illuminare con tornocchi quindi a fine make up andiamo ad illuminare questo contornocchi con il correttore più chiaro Allora, l'altra cosina che vi voglio dire per quanto riguarda questi correttori che già nascono con una mezza tonalità più chiara quindi è semplice scegliere colore dipende il colore del fondotinta andiamo a scegliere il correttore perché già nascono con una mezza tonalità più chiara poi, altra cosina vi voglio parlare dei correttori camouflage che per intenderci sono questi colorati praticamente sono all'olio di cotone addolcente camouflage perché? perché vanno a camuffare proprio tutte le imperfezioni del viso quindi insieme andiamo a vedere proprio ogni colore a cosa va a migliorarci allora, intanto vi dico che il correttore verde va a coprire i rossori e i brufoli viene messo sempre prima del fondotinta quindi questi correttori camouflage dobbiamo usarli sempre prima del fondotinta quindi col correttore verde andiamo proprio a nascondere i rossori e i piccoli brufoli e i capillari poi praticamente andiamo a mettere questo sticky correttore poi l'andiamo ovviamente il consiglio che vi do per quanto riguarda questo sticky correttore verde di opacizzarlo con una cipria perché altrimenti dopo quando andiamo a mettere il nostro fondotinta io uso il fondotinta mattica ad oro praticamente quando andiamo a mettere questo fondotinta col pennello andiamo proprio a stendere il fondotinta possiamo avere il viso ci può divontare praticamente verde quindi il consiglio è sempre di opacizzare con una cipria specialmente per quello verde ok? poi abbiamo il correttore lilla che va ad illuminare proprio tutte le zone d'ombra quindi tutte quelle zone dove noi abbiamo delle zone d'ombra che vogliamo illuminare quindi con questo andiamo ad illuminare proprio tutte quelle zone spente che vogliamo illuminare poi abbiamo il correttore giallo che va a coprire le occhiaie bluastre e le piccole vene e poi abbiamo il correttore arancione che è questo di qui che praticamente va a coprire tutte le occhiaie scure marroncine e anche le macchie quelle scure del viso allora questi correttori dobbiamo sempre usarli prima del fondotinta e poi ovviamente mettiamo i correttori prepariamo ovviamente la nostra pelle andiamo a coprire proprio tutte le imperfezioni del viso e poi col fondotinta andiamo ad uniformare il tutto un'altra cosina vi voglio dire che tutti i correttori si possono sovrapporre quindi possiamo sovrapporre tutti i correttori quindi questo lo andiamo a mettere prima del fondotinta questo pure prepariamo proprio la nostra pelle a poi a mettere il fondotinta quindi a coprire proprio tutte le imperfezioni e poi andiamo ad uniformare con il fondotinta E infine con i correttori fluidi lo andiamo a mettere dopo il fondotinta E come vi ho detto per un effetto veramente illuminante Perché fanno anche dell'illuminante Andiamo ad utilizzare il correttore chiaro a fine make up E andiamo proprio ad illuminare questa zona Vi ho spiegato i nostri correttori Spero che vi sia piaciuto Per questa domanda sui correttori potete ovviamente scrivermi nei commenti Un bacio!